Un minuto, un solo minuto per ascoltare, guardare, riflettere tutto in italiano. In questi giorni ho finito di leggere il libro, per questo mi chiamo Giovanni. È una storia speciale in cui un padre racconta un'altra storia speciale al figlio. Gli racconta la storia di Giovanni Falcone e, incidentalmente, anche di Paolo Borsellino. Entrambi sono morti, ma non sono stati sconfitti dalla mafia. Loro sono morti da eroi perché le loro idee camminano ancora sulle nostre gambe. Per imparare l'italiano con un italiano in Italia.